Ciao a tutti carissimi amici La musica è finita Gli amici se ne vanno Siamo rimasti io, Ignazio E il gruppo che ha fatto Musica da paura Come va ragazzi? Bene Sono stanchi Sono molto stanchi Ci racconti un po' della scaletta di questa sera? No, stasera è stata Raccontala tu Tommy, vieni Tommy è il nostro direttore La canzone bomba che avete suonato stasera Quella che ti è piaciuta di più? Ah io lo so io con è Can take my eyes of you Che tutti conoscono Esatto, tutti conoscono Nella versione di Gloria Gaynor Ma nessuno sa che in realtà è un bellissimo brano Degli anni 60 Di Frankie Valli And the Four Seasons Che peraltro invito Se c'è qualcuno A Milano Nei prossimi Mesi Ad andare a vedere Il musical Che è la storia di questo Gruppo meraviglioso Un gruppo Che ha fatto la storia Negli anni 60 Ma insomma Ce la portiamo ancora oggi E il musical si chiama The Jersey Boys Perché sono questo gruppo di ragazzi Del New Jersey È bellissimo eh A teatro nuovo Sono bravissimi Tra l'altro c'è un mio amico Che fa una delle parti protagoniste Che si chiama Flavio Gismondi Che saluto con piacere Sono meglio Sempre meglio Poi cosa vogliamo dire Chi sono? Sono Stefano Signoroni Suono il piano Canto E basta Ha fatto un disco Che si chiama Good Times E fortunatamente Stiamo girando Più o meno il mondo Le prossime tournée Le prossime date Londra Allora Facciamo questa settimana In Sicilia Poi siamo a Londra Poi andiamo da Londra Andiamo in Messico Facciamo uno show Che ci porta a Los Angeles Piccola cosa a Los Angeles Se torniamo Poi il 9 ottobre Che compio gli anni Ne compio Otto A Il 9 ottobre Al Blue Note di Milano Sì Ne compro Otto Benissimo Allora io Chiuderei con Can take my eyes of view Così proprio Non sarebbe I love you baby I need you baby I love you baby Trust in me when I say Fai così Fai così Ragazzi Mettete un bel like Iscrivetevi al mio canale YouTube Giovanni Saldì Ciao a tutti E alla prossima Ciao a tutti